Una breve introduzione a questo racconto lungo, non è un romanzo perché non ha lo sviluppo di un romanzo, però è un racconto di quasi quattro ore e quindi è anche il più lungo dei racconti che ho letto finora di Schnitzler. Ne ho letti, mi pare, quattro che troverete in questo canale. Una breve premessa, è stato un racconto per me un po' difficile da leggere, non tanto perché non mi piace l'autore, perché non mi piace come scritto, anche se la sua scrittura è piuttosto complessa e tutt'altro che paratattica, però è stato difficile da leggere perché sono senza voce e quindi leggere quando la voce non risponde diventa molto complicato. E quindi forse anche la qualità tocale non è delle migliori, ma mi sono sforzato. Purtroppo insomma c'è un'infiammazione alla gola e questa dura da un po' di tempo, quindi o non si fa niente o si fa lo stesso e poi magari facendo lo stesso si mantiene l'infiammazione. In questo racconto, a differenza che con quello di Steinbeck, mancano anche le anticipazioni, e quindi si è anche curiosi di vedere come andrà a finire, anche se la storia prevede già nel suo sviluppo quale sarà la fine. È un racconto molto interessante, contenuto non tanto psicanalitico ma proprio psichiatrico. Si narra la storia, l'evoluzione di una patologia e l'autore la racconta attraverso il personaggio protagonista di questo racconto che vive questa sua malattia e che coglie già in una fase di convalescenza da un primo episodio ritenuto come un esaurimento abbastanza banale ma per il quale chiede una sospensione dal lavoro e va a farsi una vacanza della durata di sei mesi e quindi comincia con il protagonista che lascia la vacanza e che torna nella sua città a Vienna dove ha un fratello. Da lì si sviluppa la sua storia di malattia e nel racconto sono puntualizzate molto bene le fasi di questa malattia e il carattere del protagonista che ha molto a che fare con le caratteristiche tipiche di questa patologia. Il sotteggiamento è quello di una persona che teme continuamente di ammalarsi, ma non solo teme di ammalarsi ma teme anche di essere contagiato dalla malattia e la malattia che gli fa paura, come succede agli ipocondriaci, che hanno paura di ammalarsi, hanno paura delle malattie, quindi guardano continuamente se stessi, più che guardare all'esterno, più che proiettarsi nel mondo, si proiettano all'interno di sé con tutti i timori che qualcosa succeda che altri il loro equilibrio. E questo un po' succede anche a un problema di ossessione, di essere tutto attento, di non sentirsi adeguato, di essere chiuso nel proprio mondo e di riflettere sempre intorno al proprio mondo invece che verso l'esterno, a proteggersi. La prima occasione che viene data a questo soggetto che già ha in sé le caratteristiche, quindi una personalità, un disturbo di personalità, borderline insomma, che già è al limite, ma che mette in atto, cerca di mettere in atto tutti i meccanismi per proteggersi, dalla paura che si capisce dall'inizio del racconto e di diventare folle, insomma, della follia. Il primo segnale che ci viene dato anche nel racconto è quello che il fratello del protagonista è un neurologo, ha individuato in un amico comune, diciamo così, una malattia mentale e gli prognostica che subirà gli effetti di questa malattia e ne morirà. In realtà succede così. Prima che succeda, il nostro protagonista, quando vedrà questa persona, tenterà di stare distante, avrà paura di essere in qualche modo contagiato dalla sua malattia mentale. E se il contagio non è un contagio diretto, come quello del virus attraverso un agente patogeno, è però un contagio che si manifesta nella paura, nel timore, nel fatto di proiettare un pericolo in quella persona che potrebbe influire su di noi, almeno nella mente, diciamo, abbastanza malata di questo personaggio del protagonista. Questo timore lo farà anche agire in un certo modo, cioè raccomanderà al fratello che è psichiatra, di fare in modo che lui non diventi matto come nel momento in cui il fratello si accorgesse che lui sta diventando matto, il fratello dovrebbe ammazzarlo in qualche modo, senza che lui se ne accorga. E quindi gli darà anche una lettera in cui scriverà questo, insomma, lo incaricherà di provvedere nel caso che il fratello si accorga che lui sta diventando matto, perché ha molta paura di diventarlo. E poi vedremo, insomma, che questa lettera che scriveva il fratello sarà poi un cruccio durante la gran parte dello sviluppo del racconto, perché da questa partiranno poi tanti pensieri, tante idee, insomma, diventerà un pericolo per lui, insomma, e quindi cercherà di... Lo stesso fratello che lui ama molto, insomma, un fratello che è la figura fondamentale un po' nella sua vita, diciamo oggetto d'amore, di stima da parte del protagonista, durante il corso della vicenda cambierà e diventerà, proprio perché gli è stata delegata a questo ruolo, insomma, nel caso che diventasse pazzo di ammazzarlo, diventerà una fonte di pericolo. E qui c'è anche la figura del doppio, no? Perché in questa patologia quello che viene a meno è l'unità dell'io, insomma, è un io che sentiamo sfaldarsi continuamente. La difficoltà del protagonista di tenere insieme i propri pezzi, che scricchiolano, insomma, che sono continuamente soggetti a influenze esterne, a difficoltà di riconoscersi, a minazze di pericolo che lui pensa di individuare o che affiorano ogni tanto anche da discorsi che coglie e che non hanno niente a che vedere con lui, ma che lui percepisce come rivolti a sé, no? E quindi c'è questa idea di influenzamento, di persecuzione. E infatti ci saranno anche dei momenti in cui lui teme di essere avvenenato. E poi ci saranno anche una serie di donne che entrano nella sua vita, ma ci entrano sempre abbastanza marginalmente, perché la capacità anche di relazione, la capacità affettiva di queste persone, tolto l'interesse per se stessi, diventa carente nei confronti di un interesse e una dedizione per gli altri, no? Tengono a chiudersi, a isolarsi nel proprio io e a cercare di recuperarlo, di tenerlo insieme, perché si sfalda da tutte le parti e tutto rappresenta poi una minaccia e tutto viene vagliato all'interno di una mente che non funziona come dovrebbe, come un potenziale pericolo e quindi sempre quel criterio anche del vantaggio o dello svantaggio. Però insomma ci saranno anche una serie di donne che entrano, perché lui è stato anche sposato, ma la moglie è morta. E anche qui un nuovo dramma che dovrà affrontare. Perché? Perché lui in un momento in cui non era padrone di se stesso, quindi in un momento in cui ha avuto un'amnesia, non si ricorda, lui potrebbe, nella sua fantasia, potrebbe essere stato lui ad aver ammazzato la moglie. E forse anche lo avrebbe desiderato, ma non sa fare la distinzione bene tra il desiderio e poi la messa in pratica. Dal fatto che lui potesse avere ammazzato la moglie, ma non soltanto, in un altro momento di amnesia, diciamo così, potrebbe anche avere ammazzato la sua compagna del momento, che a un certo punto lo lascerà per andare in America. Ma lui non saprà se lei è ancora viva o è ancora morta. E quindi anche questo lo porterà molto a pensare e ad elaborare, no? Perché si sentirà colpevole anche della morte di questa. Una serie di influenze, di persone che potrebbero sapere quello che lui ha fatto, che non vorrebbe però che si sapesse, ma che potrebbero sapere, e quindi potrebbero controllarlo, spiarlo, insomma, tutta una serie di sviluppi che avvengono tutti nella mente di quest'uomo, il quale fa fatica, diciamo, a riprendere anche il lavoro, no? E vivrà questa situazione molto complicata a causa di questi deliri anche di colpa che verrà organizzando. E poi un altro momento in cui si sente poi lo sdoppiamento, no? Si sente questa situazione schizofrenica e in un certo momento lui non riconoscerà più se stesso dal fratello. Ci sarà un momento in cui si guarda allo specchio mentre ha un digno, un sorriso un po'. E in un primo momento riconosce se stesso, ma poi gli sembrerà che fosse stato quello del fratello che gli assomigliava a dignare alle sue spalle. E quindi non saprà più se lui è lui oppure se lui è il fratello. Un altro tema che condizionerà lo sviluppo. Sostanzialmente è una storia che racconta la vita di quest'uomo fino allo sbocco finale che non vi anticipo. Leggere questo racconto, ascoltarlo, significa entrare direttamente nella vita di questo personaggio e provare il suo vissuto, provare i suoi drammi interiori, insomma, provare tutto quello che lui prova e che ci racconta, no? Perché Schnitzler poi è stato chi ha introdotto anche il monologo interiore. Quindi ci racconta anche i suoi pensieri, il suo vissuto direttamente. E dal racconto dei suoi pensieri, dal racconto di quello che vive e da come lo vive, ci facciamo l'idea soprattutto di cosa comporta questa patologia, questa situazione, che è un delirio lucido, insomma, nel senso che lui apparentemente, per chi non lo conosce, potrebbe anche essere considerato una persona normale, non è il folle che si capisce subito che è folle, no? Lui, nelle sue cose, è molto calcolante, è anche molto lucido e si sforza continuamente di dimostrarsi sempre lucido, sempre in grado di far fronte alle sue difficoltà, anzi, di allontanare tutto quello che rappresenta un pericolo. Perché giocano in questo racconto molto dei meccanismi di proiezioni, insomma, lui proietta sugli altri certe cose sue, certi suoi timori, no? La storia si svolge sempre chiusa in questo, in questa persona. Lotta soltanto con se stesso, non lotta come protagonista di Uomini e Topi, di Steinbeck, che abbiamo letto, contro anche una realtà molto difficile, avversa, che rappresenta continuamente un pericolo reale per lui. E quel protagonista, anche lui, una, diciamo, una malattia mentale, nel senso che è un oligofrenico, è una persona che non ha sviluppato completamente le sue capacità di ragionare. Diciamo che è rimasto con una mente molto infantile, con la mente di un bambino, quindi non in grado di far fronte alla complessità della vita. In questo caso, il protagonista non è così. Il protagonista, in questo caso, è proprio affetto da una patologia mentale che arriverà alle sue conclusioni. Knitterer, tra l'altro, era anche un medico, ha avuto contatti con Freud, e quindi, insomma, conosce bene la materia, perché non anticipandoci il finale, si fa incuriosire continuamente su cosa succederà, su come si comporterà, su come si svilupperà, e anche su quello che succederà nell'ambiente che lo circonda, delle persone che lui incontra di volta in volta. Il protagonista non è che suscita particolarmente la nostra simpatia, almeno la mia, cioè lo sentiamo distante. Non è una personalità simpatica, estroversa, che si muove, si commuove, anzi, ci fa in qualche modo tenerlo a distanza, perché ci fa capire l'assurdità, ma anche, in un certo senso, la pericolosità, la tendenziosità delle sue elaborazioni mentali. E quindi, da questi poi, ne derivano anche i comportamenti, che sono sempre di difesa, sospettosi, incentrati su se stesso, egoistici. Anche lui è una vittima della sua patologia. E il racconto, tutto questo, se lo dice bene. E quindi, per chi vuole sapermi di più, sembra abbastanza evidente che si tratti di una schizofrenia di tipo paranoide, e vuole anche gustare la scrittura di Schmitzler. Questa scrittura, anche ricca di monologhi interiori, sonda anche questo spazio. Se lo si prende dall'inizio, ci coinvolge, e ci fa desiderare di arrivare presto alla fine, di vedere come va a finire. E anche cosa succede nel frattempo. Scusandomi ancora per la voce, perché è proprio molto difficile leggere in queste condizioni di voce, perché poi soffia continuamente, insomma, ci sono tante cose che non funzionano. insomma, è come per un pianista muovere, suonare con le mani congelate. Ho cercato comunque di arrivare alla fine, nonostante anche un piccolo guaio che mi è capitato, nel senso che nel mettere insieme le parti mi sono accorto che una parte abbastanza consistente l'ho buttata via, l'avevo letta, e poi mi è capitato di buttarla via accidentalmente, e quindi l'ho dovuta rileggere. insomma, non sono più riuscito a recuperarla, e quindi l'ho letto anche, diciamo, abbastanza di più di quello che avrai dovuto. Ma insomma, siamo arrivati alla fine anche di questo racconto. Insieme con questo racconto, se avete l'occasione, se vi piace l'autore, sappiate che nel mio canale trovate anche altri racconti di Schnitzler in lettura integrale, e tra questi troverete Morire, Doppio sogno, il sottotanente Gustl e la signorina Else. Sono tutti racconti che hanno una certa importanza anche nella storia della letteratura. Auguro a tutti una buona serata e arrivederci. Ah, ultima cosa, come vedete, sono andato dal barbiere, erano due anni che non andavo dal barbiere. Da quando mi ero ferito, mi ero tagliato, rasato a zero con i capelli e poi c'è stato il covid e poi c'è stato il fatto che il mio barbiere è morto e così ho lasciato correre in tutto questo tempo perché non mi andava molto l'idea di andare dal barbiere e oggi invece ho deciso di andarci. Poi ho deciso proprio oggi che è lunedì dove i barbieri sono chiusi e dove l'unico barbiere che avevo collocato nel mio paese al di là del mio stava ristrutturando il negozio e così ho trovato un barbiere cinese sono andato da questo barbiere cinese e con la modica cifra di 10 euro mi ha tagliato un bel popò di capelli. Finalmente sono riuscito a ritornare non dico alla situazione precedente ma insomma a una situazione passabile e con ciò vi saluto una buona serata.